Ben ritornati e ben ritrovati carissimi telespettatori, stasera con appunto il dottor Zorzoni proseguiamo questa carrellata sui temi relativi appunto a tutto il mondo web e tutto quello che ne deriva dalle connettività internet. Il tema che affronteremo oggi è in realtà un tema che avrebbe bisogno di 20 puntate non da un quarto d'ora ma da un'ora l'una ed è il tema della cyber sicurezza. In realtà noi vorremmo oggi parlare di come è molto più diciamo semplice raccontarlo con dei semplici accorgimenti ossia la cyber sicurezza è un qualcosa che se diciamo cyber sicurezza viene in mente l'attacco a una banca piuttosto che alla regione Lazio che sia stato non tanto tempo fa piuttosto che diciamo situazioni che colpiscono sempre una moltitudine di persone. In realtà tutto ciò è derivante da sistemi logiche e ragionamenti che appunto il dottor Zorzoni stasera ci racconterà perché quello di cui vogliamo parlare stasera è proprio come prevenire la cyber, c'è una questione di prevenzione più che di operazioni di cyber sicurezza. Prego raccontaci come sempre perché allora come si diceva è esercibile enorme secondo me dobbiamo innanzitutto comprendere che c'è un'analogia tra la cyber sicurezza quindi la sicurezza informatica e telematica delle reti dei sistemi informatizzati con la nostra realtà quotidiana. Quando immaginiamo la sicurezza sul lavoro ad esempio anche la sicurezza stradale. La sicurezza stradale è composta da una serie di comportamenti, una serie di procedure, una serie di comportamenti codificati che prevengono una serie che sia diciamo semplice che composita di criticità che poi possono portare ad un incidente. È così sostanzialmente anche nella sicurezza, nella cyber sicurezza. Nella cyber sicurezza noi dobbiamo innanzitutto escludere quello che spesso i cosiddetti vendor cioè chi realizza a livello sistemico dei prodotti di sicurezza vende come il sacro graal è la soluzione di tutti i problemi. Quindi noi dobbiamo uscire dalla mentalità che ci sia un singolo box tipo un firewall incredibile che possa coprire tutte le tematiche di sicurezza all'interno di un'azienda o all'interno di una pubblica amministrazione o all'interno di un operatore di telecomunicazioni. Infatti una delle cose più importanti in tutti gli ambienti è innanzitutto individuare quasi sono tutti i sistemi informativi che diciamo scollegati possono avere problemi di sicurezza e quindi vedere innanzitutto fare un'analisi statica di questi sistemi capire come sono costruiti e quali sono le problematiche che possono avere e poi capire qual è la parte di questi sistemi che è possibile poi mettere in rete quindi fare poi aspetti anche di statici di sicurezza sulle reti a cui questi sistemi vanno collegati che non per forza deve essere la rete intra anche delle reti private possono avere problemi di sicurezza e poi una volta deciso la rete decisi quali sono i sistemi informativi a mettere la rete fare una sette di sicurezza dei sistemi combinati questa cosa è una cosa che costa è una cosa che non è una tantum ed è una cosa come diciamo le procedure di sicurezza richiede un lavoro quotidiano quindi è un processo se noi comprendiamo che la sicurezza la cyber sicurezza è un processo non è un prodotto noi iniziamo a comprendere qual è il vero problema e come riuscire a iniziare a prendere il toro per le corne quindi all'interno delle aziende le poche amministrazioni è veramente molto importante fare informazioni quindi una volta compresi quali sono i rischi nel diciamo nel pubblicare delle applicazioni dei sistemi informativi all'interno delle reti far comprendere anche questi rischi in maniera semplice mettere in campo una serie di accorgimenti software per evitare i rischi che magari si possono andare a diciamo così a inciampare inadvertitamente quindi programmare diciamo i sistemi in maniera che prevengono questi e poi tutti gli altri comportamenti che invece sono rischio diciamo spiegare bene e mettere in evidenza bene quali sono quelli da evitare noi sappiamo questa è la letteratura che ce lo dice che oltre il 90 per cento delle infrazioni di sicurezza sono dovute a un due componenti la prima avere un basista all'interno di un sistema esattamente come non so un colpo in banca qualcuno delle informazioni riservate quindi può staccare l'allarme e possiamo fare un furto in maniera una rapina in maniera liscia passando la liscia e la seconda forma è invece la scarsa competenza per cui qualcuno inadvertitamente clicca un link esegue un programma questo programma poi genera un accesso esterno a un sistema ben protetto e da lì diventa diciamo un gateway diventa diciamo una porta che permette ai malintenzionati di fare le cose più disastrose all'interno di quella azienda di quella di quella entità quindi fare formazione è fondamentale e ovviamente fare anche screening della parte degli accessi comprendere se c'è qualcosa che non va e altresì importante ovviamente nel rispetto della privacy aziendale a cui noi siamo tenuti diciamo a sottostare quindi faccio una sintesi nel senso che la diciamo l'approfondimento da te fatto è molto è molto chiaro il termine principale è formazione appunto l'esempio e l'analogia con quello che è il mondo della strada il codice stradale è probabilmente la chiave di lettura che non tutti utilizzano parlo non solo le persone utilizzatrici ma anche gli imprenditori stessi a protezione delle proprie aziende piuttosto che i dirigenti della pubblica amministrazione quindi volevo è una domanda secca da una risposta secca cioè non esiste firewall se non c'è cultura certo quindi esatto il ragionamento da fare tutti parliamo o sentiamo abbiamo meno sentito parlare del firewall ma il firewall di fatto decade nel momento in cui uno non ha la cultura dell'utilizzo di arriva la cosiddetta mail spam con il link fasullo piuttosto che richiama situazioni strane tipo vieni a ritirare il tuo pacco con quante ne riceviamo hai un pacco da ritirare clicca qui per vedere o per programmare la tua il tuo diciamo il tuo ritiro quindi il concetto è questo la formazione arriviamo invece al tema formazione la formazione quando dovrebbe scattare perché sempre più nella domanda è questa sempre più legge le nuove generazioni hanno strumenti tecnologici che cedono al web sempre prima io ho in questo momento 35 anni e ho iniziato avere un cellulare che andava sul web molto presto per l'età che avevo c'è a 14 anni adesso sempre più i ragazzi i bambini perché già bambini di 8 9 anni hanno in mano il cellulare dei genitori non per forza c'hanno il loro ma hanno in mano il cellulare dei genitori ecco però capiscono perché come sanno utilizzarlo capiscono quello che schiacciano questa formazione è probabilmente una formazione che va fatta a monte già proprio intene in giovanità o bisogna aspettare che abbiano un po più di consapevolezza si faccio un lancio sui termini di sicurezza perché ad esempio conoscere anche come si usano i sistemi informativi permette di scongiurare una serie di attacchi prima parlavamo del link ma vi faccio un esempio in un'azienda è stata rubata una password in cui poi è stato fatto un accesso a un sistema informativo sono stati rubati dei dati perché ci si è avvicinati dall'esterno un ufficio con un'antenna e si è assolutamente rubati la password perché la tastiera del chi diciamo inseriva questa passo per accedere al sistema era di tipo wireless e attraverso diciamo una vulnerabilità nel protocollo wireless di quella tastiera si è rubata la password quindi conoscere l'interazione dei sistemi informativi è fondamentale la questione delle competenze e fin fin diciamo dal primo grado diciamo di utilizzo dei sistemi informativi allora nessuno di noi va in macchina torniamo ad esempio di prima senza patente sì certo magari come aiuto possiamo imparare a utilizzare da ragazzi il cart prima di usare una macchina e quindi lì siamo senza patente ma abbiamo sempre un istruttore che ci spiega come utilizzarlo facendo il parallelo è assolutamente fondamentale per i ragazzi avere una formazione in generale elementari per quanto riguarda e se diciamo in generale l'informatica e le telecomunicazioni per due motivi prima per la loro sicurezza secondo per la sicurezza diciamo della nazione diciamo nel suo complesso perché questi diventeranno gli adulti consapevoli che sanno quello che stanno facendo e non credo di saperlo aggiungiamo una terza motivazione che è una motivazione industriale guardiamo l'inghilterra l'inghilterra ha fatto attraverso la bbc prima e poi con altri progetti come ad esempio la fondazione rasperry ha fatto dell'informatica insegnata nei primi anni d'età un'industria oggi i microprocessori a più basso consumo energetico che sono utilizzati praticamente dovunque tranne un pezzo del mercato dei pc ancora maggioritario ma vedremo in futuro sono stati prodotti proprio dagli ingegneri che negli anni 80 hanno diciamo imparato alle elementari all'equivalente delle nostre elementari l'informatica oggi non solo questo da quindi una prospettiva dell'industria ma è estremamente utile direi fondamentale per avere un uso consapevole perché un cellulare ha o da una visione estremamente semplificata di una tecnologia complicatissima sia a livello software locale sia a livello software remota in cloud che sempre più le applicazioni utilizzano per fare la profilazione dei clienti un altro tema molto importante di dati personali quindi se noi non insegniamo ai nostri ragazzi come si utilizzano queste piattaforme non solo non solo gli impediamo di fare un utilizzo consapevole e quindi di poter commettere degli errori errori di sicurezza che magari potrebbero compromettere la sicurezza informatica di una grande azienda dove lavora il padre solo perché il figlio fa delle azioni all'interno magari della casa dove il padre tele lavora attraverso il suo dispositivo personale ma anche creiamo un problema diciamo di prospettiva perché noi abbiamo degli utilizzatori inconsapevoli che non potranno mai diventare dei creatori di quelle piattaforme perché non hanno le competenze fin da piccolo ecco quindi diciamo sia per una questione di sicurezza informatica sia per opportunità diciamo industriale in futuro è assolutamente fondamentale che fin dalle elementari si insegnano i rudimenti di informatica e quindi della sicurezza informatica di telecomunicazioni e quindi sicurezza della telecomunicazione ai ragazzi ultima domanda per concludere diciamo questo ragionamento molto molto scottante perché comunque il tema appunto è scottante e da un punto di vista di formazione scolastica si sta muovendo qualcosa questa è più una domanda da presidente appunto dell'associazione che rappresenti si sta muovendo soprattutto a livello anche di scuole primarie o ancora un tema che non è stato veramente affrontato dalle in generale dalle istituzioni e dalle scuole? Allora da una parte noi abbiamo degli istituti tecnici diciamo i furono istituti tecnici industriali che hanno sempre fatto un grandissimo lavoro le scuole pubbliche italiane chiaramente scontano come un po' come i servizi sanitari una riduzione di investimenti enorme quindi fanno quello che possono è chiaro che noi dobbiamo invertire la rotta noi abbiamo un tema diciamo anche anagrafico qui noi se non riusciamo a comprendere che al di là di quelli che sono i problemi di bilancio se non torneremo a investire sulla sanità da una parte sulla scuola che è il pilastro fondamentale della società e poi anche su diciamo il ripopolamento anagrafico del nostro paese non avremo più un bilancio quindi oggi noi magari continuiamo a procedere in quello che abbiamo fatto in ultimi vent'anni cioè a tagliare investimenti nella scuola pubblica ma questo poi alla fine sta diventando un modo per tagliare le gambe nella sedia dove siamo seduti quindi questo mi sento di dirlo in maniera molto chiara noi dobbiamo sopportare sempre di più la scuola e dobbiamo tornare a investire tantissimo perché se creiamo un ambiente positivo nella scuola e creiamo un ambiente diciamo di futuro per il nostro paese benissimo allora direi che per stasera abbiamo affrontato questo tema caldissimo ma in realtà il dottor Zorzoni ha già lanciato il tema del prossimo quindi ve lo preannuncio il prossimo tema è legato alla privacy tutto quello che ne consegue quindi vi aspettiamo fra una settimana buona serata a tutti